Ciao a tutti ragazzi, sono Gesù, in realtà mi chiamo Pezzitano e ci dici, siamo in compagnia con... David Zodan e San Suomila E... Claudia la stupida Facciamo... Non c'è la musica Facciamo questo video... Questa vlog? E ti stupi Allora, in realtà in questo video... Ah, c'è pure Ciccio... Ciccio pasticcio Ciccio pasticcio... Eh sì... Non sono più anni... Sì, aspetta... Eh, non sono una che fatta... Ok, ecco... Guardate il mio gioco... Guardate il mio piotto... Guardate il mio piotto... Che fa schifo... Niente si accende... Poi ci siamo in questo video perché... Allora, adesso qua ce lo conosci... E ancora 10... Non so... Mi interessa... Stiamo in questo video perché da tanto che non faccio video... Quindi scusate... Anche se per voi è un benessere... E... Continuo a fare questo video perché voglio... Perché Gesù me l'ha detto... E... In Zapponea... Ma quanto che è il genitinato? Lo vuoi vedere? Ufff... No... C'è la mia sapinella... Ma... Ma ce la fa... Ma aspetta... Hanno un guantello di modello... Ufff... 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 La mia sapinalla ce la fa... Le nuco da per me... Ufff... Guardate... Le nuco da per me... Ufff... 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 Ciao... 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 Sì... Ciao... 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 C'è pure il sole... Uuuuh... Non ha spieguto... Per niente... Proprio tutto liscio... C'è 40 gradi... Oh... Guarda... Oh... la scarca è bella della didastica la c'è un principe aspetta non so se lo fai ahahahahah sembra un contatto comunque vi faccio vedere una cosa il taglio di capelli what the fuck oh e dopo se riconosci lui non mi interessa fai il pagliaccio fai questo ciao Giorgi no no fai il bello di fai il bello fai il bello di it bello di it c'è Gab no 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 non l'ho detto Gab aspetta 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 lui si è cacato addosso si c'è qualcosa di marrone vabbia ah no no sai perché marrone perché io ieri siccome ho fatto il compleanno nessuno mi ha fatto il compleanno seee non è vero l'aprello aspetta aspetta è il sporco di milan è il sporco di milan vediamo se ci sono i fantasmi in giro ah ma c'è Milù forse andiamo da Milù se non c'è cadetta bella pulita c'è la fantasma c'è la fantasma lì c'è la mia città vedete il fantasma censured censured non puoi mettere il target non puoi mettere il target non puoi mettere il target non puoi mettere la macchina staccola si passa un buco e staccola si passa la macchina non li faccio vedere non li faccio vedere ok ma città lì qua passiamo per la passarella no è chiuso non c'è più Milù scrivete nei commenti ah aspetta scrivete nei commenti hashtag siamo mongoloidi ecco io sono il modello fiero io sono troppo bene ok oh lo avete vede ha detto il calone tagliatore di suonacchi vediamolo che voi non vedete vedete dopo cioè vi faccio vedere una sorpresa le mie super star belle cosa fa una trotta o un'altra trotta ve lo dico subito yeah yeah iscrivetevi se siete iscritti allora questo è il divano dai è le ciole iscrivetevi anche al mio canale sono quelle le ciole le ciole l'acqua c'è una bella schienua mi piacciono secondo me non gli interessano ma dopo qua abbiamo ventilatore ventilatore me ne faccio la fraspi raga guarda è bagnato provare lo stesso ahahah mi ha sbagliato tutto un po' c'è una corredonda che arriva fino alla punta potete raccattare un mugelato la pizza ed è buccaccecca un attimo guarda madonna si che io chissà che è stato a sciappare il mio quadro nuovo vero è il quadro lì viva 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 oggi vediamo tutto l'altro posto dove ci siamo voglio reggircare la targa no la targa no mamma ieri non l'ha fatto il campion no si 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 giù ah si tutto si ci fai scendere la colpa tutti mamma targa no tre tanti anni tre tanti anni dio quanto hai fatto vuoi che ha fatto il campion hai fatto 10 o 11 anni Ciao a tutti Quello è il mio bellissimo motore L'acqua Ok Questo già lo abbiamo fatto vedere Un bel po' di volte Nel famoso Nel famoso cancello bianco Guardatemi negli occhi Aspetta io ci sono E' il sangue verde Sì E' il sangue di tipi E' questa d'amicizia E' questa d'amicizia Ma mi direi che Emanuele Era di tua madre Si è un P8 bellissimo Ancora 10 E da questa macchina all'orto è mia Iphone X Un miliardo di miliardi Perché compriamo l'iPhone X Un miliardo però Non c'è rivederto mai In realtà non si chiama il teppogliacchi Si chiama P9 Si chiama Clown Balenciano P9 wise Vedi che è It E' lui E' vero E' vero It significa lui E lui ci ha aggiunto lui E che l'altra volta Se l'avessi te la città E' il sbrollato del video Credo che significa It C'è It Si può trovare dappertutto Anche su Google Se scrivi google.it Il mio cane ha facciato a mischina Non c'è il mio cane E più chi sta congelando Ah dai il nostro saluto E' vero Il nostro saluto Guarda qual'era Uno Due Tre Quattro E' stato con la scena così Mentre la mano uno no Ma è quello Ah è le due Ah è le due Eeeh le due Ma non è quello così Non è quello strano Ma è quello così Quello che è l'uomo No quello è così Ne facciamo uno nuovo Ma che dici Quello era il mio No Si Vabbè lol Aspetta no Come Gumball e Darwin Va bene Chi è che lo tiene? E' lui No Però io non farei vedere I mani dal Vai Aiuto Ma adesso ci stavo C'è Due Aspetta prima io Due Tre Tre Che cosa? Gli ha fatto le patatine E cinque E' qua la da Vai Uno Due Tre Quattro Cinque Non so Non siamo pro con i saluti E' no Allora Venti 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 Madonna 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 Deve impiegare i piedi, allora la metti in piedi da cosi Amone, lo chiedo! Eh vabbè Uno Due Che sento è? Tre Con l'altro Con l'altro uno Due Oh! Eh 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 Questa è il nostro spaventato Ma lui è in pigiama Ecco, guarda il nostro, quello di Campbell e Darwin Campbell e Darwin Vabbè, questo è il nostro Ma quanti c'è? No, come, no, come era? All'inizio Eh, no, non era così Non era così Non lo volevo fare Ma cosa ne di chi stanno combinando? È così, no! Ok, credo che il video si dovrebbe concludere perché è a dieci minuti No, non è anche chiudere Eh, è a dieci minuti! Ma c'è la casa, un minuto Chi siamo? È casa? Venticin costanze Cento mila euro in casa Lasciate sei 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 di like Ma basta anche sei Guardate Sei 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 Quattro Sei 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 Lai Ah, bingo! Non puoi zoomare Non puoi zoomare così Come vai? Non puoi zoomare così Non puoi zoomare così LoL È dopo una bella rossa che non so chi l'ha fatta Di chi è? LOL No, no! No, no! No, no! Oh, è un po' più vento! Guarda che stai iniziando a piove! Gesù! Sta scendendo Sta pioge... Sta piangendo... Sta piangendo E vedi che... E noi ci vediamo in prossimo video con... Al prossimo video facciamo un fremo bla 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 Saluta Saluta Antonio Così magari No lo fa Demetra No lo faccio io Lo fai tu Lo fa Claudia No no così Così No tu Devi mettere il dito nel cuo